Siamo con Katia Trevisan di Dogma che ha vinto il premio per Deontologia delle Investigazioni Private. Quindi chi è Dogma? Allora Dogma è una società di investigazioni che ha sede a Torino e a Milano e stiamo aprendo a Roma. È una società che punta molto sul premio della Deontologia perché crediamo nell'attività fatta in un certo modo. Oggi le attività di investigazioni hanno la possibilità e devono essere fatte per acquisire prove da portare in giudizio. Quindi l'acquisizione della prova deve essere fatta nel modo corretto. È un problema di danno reputazionale per le imprese che seguiamo. È un problema di utilizzabilità della prova per cui per noi l'acquisizione e la corretta gestione della pratica ci serve per poter essere appunto competitivi anche nel settore.